Il nuovo bollettino di Accademia Kronos propone ancora una volta una serie di spunti di riflessione sull'ambiente, a cominciare da un dossier della Commissione Europea dedicato al rischio di desertificazione della Terra. Si posta poi a una riflessione sul rapporto tra le emissioni dei vulcani e i cambiamenti climatici, per proseguire ancora con un'analisi della Commissione Europea sul degrado planetario e su un invito di Accademia Kronos a ponderare le attività connesse agli impianti geotermici per il pericolo di scatenare terremoti. Accademia Kronos fa poi sapere di aver ufficialmente registrato il marchio e il logo Io faccio la mia parte, in vista dell'ampliamento della stessa campagna a livello internazionale.